... ... Questo Chad Davis si trova in una di queste tre capanne. Non sappiamo quale. Ci sono solo due piccoli sentieri che portano là. Ecco perché ci servono le moto. La vostra arma principale sarà la velocità. La ricompensa. Sono un bravo ragazzo, lo faccio per l'America. Non importa, l'ho risolto. Lavorazione di carne gialla ciclo completo. Prima li andiamo addosso, li trittiamo per bene, li appumichiamo e ci facciamo un salcice. No! No!